Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata ai 10 progetti nati dalle direttrici del protocollo del 6 novembre del 2014 per 3 macro aree prioritarie in tema di riqualificazione urbana, spazi aggregativi e riqualificazione della portualità territoriale. Si tratta delle proposte della Giunta Comunale di Gela sull'utilizzo dei fondi di compensazione dell'ENI illustrate in conferenza dei capigruppo. Vediamo. 10 progetti nati dalle direttrici del protocollo del 6 novembre del 2014 per 3 macro aree prioritarie in tema di riqualificazione urbana, spazi aggregativi e riqualificazione della portualità territoriale. Si tratta delle proposte della Giunta Comunale di Gela sull'utilizzo dei fondi di compensazione dell'ENI illustrate in conferenza dei capigruppo. L'assessore allo sviluppo economico, Simone Siciliano, ha chiarito che la logica degli interventi è volta a coadjuvare lo sviluppo dell'attività frontemare, incentivando il recupero funzionale da un lato e la nascita dall'altro delle appendici portuali di carattere turistico ed industriale sul Mediterraneo, fondendo attraverso interventi strutturali le due sorgenti di ricchezza del territorio gialese, quali le spiagge dorate e la bellezza del centro storico federiciano. Il passaggio con i capigruppo era d'obbligo per l'amministrazione, per un primo confronto prima di andare in consiglio comunale, per parlare e mostrare quello che l'amministrazione intende sviluppare con una parte degli oni di compensazione. Sono state individuate tre macro aree con priorità diverse, che fondamentalmente abbracciano la logica degli oni di compensazione, così come previsto dal protocollo d'intesa. Si tratta quindi di investimenti che riguardano lo sviluppo economico della città, alternativo alla presenza industriale, con un affaccio alla sostenibilità energetica, all'aggregazione sociale e soprattutto per quello che riguarda la tutela della salute. Quindi è nostra intenzione, soprattutto per quest'ultimo punto, fare i passaggi d'obbligo per cercare di capire se è possibile istituire ad esempio un istituto di un centro di ricovero e cura, vista la gravità della situazione di alcune patologie presenti in città. Ovviamente stiamo cercando di puntare molto sul fronte mare, per quello che riguarda le appendici portuali, cioè il porto rifugio e il porto industriale, per cui da tempo l'amministrazione si muove all'interno delle infrastrutture per trovare una soluzione per dare vitalità al combattimento industriale. Come dicevo, i centri di aggregazione, partendo ad esempio dai salesiani, ristrutturando alcune parti di uno degli oratori più storici della città, come appunto dei centri di aggregazione storica, ma passando anche per uno stello della gioventù presente proprio sotto la casa comunale, che possa servire da unione per le due parti della città, cioè il fronte mare e il centro della città, che per l'amministrazione rappresentano le due sorgenti di ricchezza alternative del territorio. Ferma presa di posizione da parte del coordinamento dei coraggiosi di Gela, che fa riferimento a Fabrizio Ferrandelli in merito alla realizzazione della rete idrica a Manfri ad opera di privati. Sentiamo. Non possiamo assistere ad una città, sembra di più in balia, di un'amministrazione comunale inadeguata, che oramai ha perso sia il sostegno del Movimento 5 Stelle che quello dei cittadini gelesi, delusi e pentiti di averla votata. Un'amministrazione che invece di valorizzare Manfri e cercare di fornire gli servizi e infrastrutture per renderla vivibile e fruibile dal punto di vista turistico e attrattivo, la sottopone ad un'ulteriore ingiustizia, sottraendogli l'opportunità di essere dotata finalmente di una rete idrica finanziata con fondi pubblici. È il pensiero di Carlo Romano del coordinamento dei coraggiosi di Gela, che fa riferimento a Fabrizio Ferrandelli. Condivisa l'iniziativa del consigliere Salvatore Gallo, che ha chiesto al presidente del consiglio, Alessandra Ascia, la convocazione di una sise civica straordinaria ed urgente, in cui il sindaco e la giunta comunale chiariscano se rinunciano ai fondi pubblici, ripiegandosi privati, per realizzare la rete idrica a Manfria. Condividiamo con Gallo, sottolinea la nota, la preoccupazione che i residenti di Manfria subiscano ulteriori mortificazioni e prevaricazioni e si vedano costretti a pagare di tasca propria una rete idrica già peraltro finanziata, con fondi pubblici e pronta per essere realizzata. Chiediamo al lato idrico di Caltanissetta e a Caltacqua, complici involontari di questo possibile ulteriore scempio che la nostra collettività rischia di subire, dichiarire al più presto la loro posizione. E' severo che hanno rinunciato a realizzare la rete idrica con fondi pubblici, facendola realizzare ai privati e caricandola sulle spalle di inconsapevoli ed inermi cittadini gelesi che si sentirebbero sempre più abbandonati da questa amministrazione. Ieri, in conferenza stampa, durante la presentazione del progetto del Consorzio Piano Marina che verrà gestito dalla Divina Acquedotti, il sindaco Domenico Messinese ha chiarito che non sarà perso alcun finanziamento regionale. Stiamo solo accelerando la realizzazione della rete idrica Manfria che così potrebbe entrare in funzione già a partire dall'imminente stagione estiva. Il Comune di Gela ha concesso le autorizzazioni sulle quali Caltacqua non ha obiettato. La società spagnola, con le stesse somme del finanziamento della regione siciliana, potrebbe acquisire in seguito l'impianto il cui progetto era sovrapponibile a quello del 2007. L'investimento previsto dal Consorzio Gelese ammonta 1,3 milioni di euro e procede su una corsia veloce anche perché viene bypassato l'iter degli spropri. I terreni interessati dei lavori infatti appartengono in gran parte agli stessi consorziati. Si tratta di circa 330 associati che, secondo le previsioni del Consorzio Piano Marina, potrebbero sfiorare le mille utenze una volta ultimata la condotta. Il Consiglio Comunale è in sessione straordinaria e urgente, così come richiesto dal consigliere comunale Salvatore Gallo sulla rete idrica e fognaria nel territorio di Manfria. Si terrà lunedì 4 aprile prossimo alle 19. L'incendio che ha danneggiato l'infisso della struttura del centro di accoglienza per diversamente abili di contrada vituso a Niscemi ha indotto ieri pomeriggio la Giunta Comunale a riunirsi al Palazzo di Città per affrontare la grave situazione che si registra da qualche tempo a questa parte nella cittadina niscemese. Un attentato incendiario che segue di pochi giorni, quello commesso nella notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi, proprio alla vigilia della cerimonia di consegna dell'immobile in coincidenza della giornata della memoria e dell'impegno dedicata a tutte le vittime delle mafie. In quell'occasione, lo ricordiamo, sconosciuti imbrattarono con dello spray il prospetto e gli infissi del fabbricato. Ricordiamo che si tratta di un bene confiscato alla mafia e consegnato alla associazione genitori di soggetti diversamente abili. Ora, naturalmente le forze loro hanno le loro valutazioni e poi speriamo, anzi sono convinto, che immediatamente consegneranno questi soggetti alla giustizia. Noi andiamo avanti, stiamo rimettendo la mente le cose a posto e quindi ci portiamo i bambini, ci portiamo chi ne ha più bisogno di noi e che vadano da un'altra parte a creare questi tanti che non appartengono nemmeno alla cittadina. ormai la serenità è quella che ci contratti spingono e ci da forza per andare avanti. Il sindaco di Niscemi chiederà al prefetto di Caltanissetta un aiuto concreto per fare in modo di tracciare un percorso in grado di dare una risposta forte al vile gesto dell'attentato incendiario compiuto ai danni dal centro di accoglienza per diversamente abili. Il prefetto mi ha assicurato che sta lavorando e quindi io credo perché è stato una persona a quanto presente e forte. E quindi aspettiamo adesso i risultati. Il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, facendosi interprete dei sentimenti di tutti i magistrati del distretto, manifesta profonda indignazione per l'ulteriore danneggiamento arrecato alla struttura sociale di Niscemi recentemente destinata a soggetti in difficoltà. Sicuro che le forze di polizia presenti sul territorio si impegneranno con la nota Solerzia per identificare gli autori del crimine. Non può non rimarcare che si tratta di un atto di per sé vile ma che lo è ancora di più perché di fatto colpisce persone e famiglie che vivono una situazione di disagio e che soprattutto in un territorio privo di adeguati servizi come il nostro avrebbe bisogno del sostegno di tutti. Plastica, carta, materiale ferroso, rifiuti vari, una discarica a cielo aperto, quella che si è formata nella piazzola di sosta situata nel tratto compreso tra l'incrocio con la statale 115 Gela Vittoria e la provinciale 11 Niscemi Priolo. Immondizia che ha provocato le proteste sia da parte degli automobilisti niscemesi che percorrono quella strada sia dei proprietari dei terreni limitrofi molti dei quali gelesi. Sono state varie le richieste da parte dell'amministrazione niscemese al Comune di Gela in quanto la discarica sta diventando sempre più vasta e invade anche la strada ostacolando il transito delle auto. Sulla questione è intervenuto l'assessore all'igiene del Comune di Niscemi, Giuseppe Giugno, che ha affermato come gli operatori ecologici del Comune di Gela intervengano fino ad un certo punto della strada mentre nella piazzola di sosta rimane il degrado ambientale. Ed è così che il Comune di Niscemi ha diffidato il Comune di Gela. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Gela, Angelo Amato, ha già presentato una interrogazione per la rimozione urgente della discarica e la bonifica dell'area inquinata. Adesso ci occupiamo dell'immediato intervento della Polizia di Gela che ha salvato un cane dal pestaggio di due pregiudicati rumeni. Quest'ultimi sono stati denunciati per maltrattamento di animali e trasferiti presso il CIE di Caltanissetta al fine di accelerare la procedura amministrativa finalizzata alla loro espulsione dallo Stato italiano. Sentiamo. Si trattava di un ordinario servizio di controllo del territorio a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa del commissariato da parte di un carabiniere libero dal servizio. Tempestivamente una pattuglia è giunta sul luogo segnalato e si tratta del centro storico di Gela in cui questo carabiniere si è trovato dinanzi ad una scena raccapricciante di due stranieri poi identificati appunto come due stranieri nella fattispecie due rumeni che stavano strattonando e picchiando senza pietà questo cane, questo cagnolino meticcio che è stato subito messo in salvo e trasferito presso il ricara di Caltanissetta. La vicenda chiaramente ci ha sorpresi notevolmente. I due soggetti erano già stati intimati a lasciare il nostro territorio. C'era già per uno un decreto di allontanamento già notificato, per l'altro invece ieri presso il centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta si è provveduto a notificare un decreto di espulsione ad accelerare la procedura amministrativa tesa appunto a allontanare dal territorio italiano i soggetti che abbiano manifestato attraverso condotte e commissione di reati di vario genere una pericolosità sociale che li rende inadeguati alla permanenza nel nostro territorio. Ovviamente noi li abbiamo denunciati per maltrattamento di animali, previsto e punito all'articolo 544 terra del codice penale, quindi la normativa è già abbastanza completa per quanto concerne il necessario rispetto che è dovuto dagli esseri umani agli animali. Al di là di un affetto che insomma dovrebbe essere naturale nei confronti anche degli animali, ovviamente queste sono condotte penalmente perseguibili, bisogna dirlo una volta per tutte. Sì, sono penalmente perseguibili e la perseguibilità è d'ufficio, prescinde dalla denuncia di qualunque persona, perché noi possiamo procedere autonomamente per fare in modo che chi abbia commesso reati così spreggevoli possa pagare le relative conseguenze previste dalla legge. Il cagnolino in questo caso che fine farà? Il cagnolino è stato trasferito presso la struttura che si occupa dell'accoglienza e della microcippatura dei cani trovati in strada, che è il centro ricara di Caltanissette, in attesa che trovi una collocazione definitiva e chissà, probabilmente noi del commissariato lo prenderemo come nostra mascotte, come mascotte della Polizia di Stato gelese. Ha anche un nome già questo cagnolino? No, se dovesse accadere che diventi nostro gli daremo un nome che magari gli renderemo noto successivamente. Ideologia del gender, quali ricadute su libertà, educazione e famiglia? Il tema che sarà affrontato questa sera alle 20 al Teatro Eschilo di Gela. L'iniziativa è del Comitato Comunità Cristiane Evangeliche di Gela, dei giuristi per la vita e dal Comune. Sul tema relazionerà l'Avvocato Gianfranco Amato, presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita. L'ingresso è libero. Si terrà domani, dalle 9 alle 14, in Piazza Umberto Primagela, la giornata di sensibilizzazione, condivisione e conoscenza sul mondo della cecità, che mira a divulgare il messaggio di integrazione possibile tra vedenti e non vedenti. L'iniziativa è della sezione provinciale UIC, Unione Italiana dei Cecchi e degli Ipovedenti. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Gaetano Minardi, segretario locale di Fratelli d'Italia. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Bentornati in studio, seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo parlando del progetto Sottosopra per l'integrazione e la promozione dell'impresa sociale, sostenuto dal Consiglio dei Ministri. Obiettivo è dare la possibilità ai giovani di valorizzare le proprie abilità ed eccellenze tramite la realizzazione di work experience con esperti del settore audiovisivo. Vediamo. Il Movi è una realtà ormai fortemente consolidata nel territorio, tant'è vero che riesce ad aggiudicarsi addirittura un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delle possibilità enormi. In realtà il bando è stato di fatto vinto da una cooperativa che è stata creata ad hoc, che è la cooperativa Progetto H. Però è vero che la Casa del Volontariato è diventata una social question factory, noi diciamo proprio una fabbrica della questione sociale, perché abbiamo la necessità di dare le risposte a questo territorio che non ha. Questo è un territorio che è arido di proposte progettuali socialmente importanti. Allora mettere sotto sopra significa in qualche modo iniziare a guardare le cose con occhi diversi. E questa è una straordinaria opportunità per 18 giovani che avranno la possibilità di fare un percorso di crescita per acquisire delle competenze tecniche e successivamente provare a creare occupazione. All'interno di un gruppo che si mette a lavorare insieme per la prima volta, una delle cose da fare fondamentali è quella di creare appunto relazioni tra le persone. E questo si fa con delle simulazioni per esempio, con delle attività che permettono di accelerare i processi di conoscenza tra le persone, che sono fondamentali, perché poi se delle persone che faranno questo percorso dovranno a un certo punto scegliere se farne un lavoro o no, è importante che queste persone abbiano fiducia l'uno nell'altro. E su questo lavoreremo abbastanza accanto a tutto quello che sarà gli aspetti tecnici, e quindi le competenze appunto che ci vogliono per portare avanti una cooperativa che si occupa di produzioni tv. Quali sono gli ambiti delle competenze che verranno approfonditi? Saranno quelli della formazione di questo gruppo di partecipanti al progetto rispetto alla realizzazione di format televisivi, quindi tutta la formazione che riguarda il diventare operatori, piuttosto che registi, fonici e quant'altro. L'idea è quella di costituire un gruppo di professionisti che dopo a fine percorso del progetto possano con le proprie gambe andare avanti. Avrete a disposizione certamente una grande quota di tecnologia. Che cose esattamente utilizzerete? E il bando ha previsto l'acquisto di quali attrezzature? Ha previsto l'acquisto di attrezzature di ultima generazione, tanto che siccome ci lavoriamo su questo progetto da un paio d'anni, nell'arco di questi due anni siamo stati costretti più volte a cambiare attrezzature in quanto la tecnologia sappiamo benissimo che da mese in mese fa passi da giganti. Quindi noi abbiamo scelto giusto qualche mesetto fa con Alberto, perché noi lavoriamo a stretto braccio, attrezzature di ultimissima generazione che si utilizzano nel mondo del cinema. Cercheremo di dare assieme ad Alberto delle nozioni come tecnica di ripresa sia nell'ambito televisivo che cinematografico, giusto per seguire i ragazzi, per iniziare a far capire qual è il linguaggio cinematografico. Il Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia sta organizzando per domenica 3 aprile la festa della Divina Misericordia nella parrocchia del Carmine di Gela. Alle 15 si terrà l'adorazione eucaristica e alle 16 la celebrazione eucaristica presieduta da Don Giuseppe D'Aleo, vicario episcopale per il laicato. Seguirà la via Crucis con il pellegrinaggio giubilare verso la Porta Santa nei locali della Piccola Casa della Misericordia. La Forania di Butera e il Movimento stanno organizzando l'inaugurazione della seconda Casa della Misericordia che sarà aperta a Butera il 5 aprile con la celebrazione eucaristica. Alle 18 che sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana nella parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. Domenica 24 aprile presso il Palacossiga di Gela si terrà il VII Congresso regionale della Misericordia patrocinato dai Pontifici Consigli per i laici e per la promozione della nuova evangelizzazione. Al via la terza edizione del concorso nazionale di musica Gelas Music, città di Gela, riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie ad indirizzo musicale e per giovani solisti virtuosi dai 13 ai 18 anni. L'evento si terrà dal 30 maggio al 1 giugno presso il Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli al Teatro Eschilo di Gela. I premi toccano le 5.000 euro, oltre alle medaglie di rappresentanza della Repubblica Italiana, previste targhe e menzioni speciali. Il direttore artistico e il maestro crocifisso Ragona collaborato dal presidente dell'associazione il Tempio di Apollo Chiara Valeria Caci e dal presidente dell'associazione Giovani Musicisti Giussi Rinsivillo Ragona. Adesso parliamo di calcio. Ripresi gli allenamenti in Casa Gela dopo la pausa pasquale domenica al Presti arriva il Castelbuono. Manca poco per il salto in Serie D. Vediamo. È cominciata ieri pomeriggio la settimana che accompagnerà il Gela l'impegno casalingo contro il Castelbuono previsto per domenica prossima alle 16. Si tratta del terzo-ultimo atto della stagione regolare del campionato di eccellenza. La squadra bianca-azzurra, sempre più lanciata verso la promozione diretta in Serie D, non vuole assolutamente svestire i panni di leader assoluta del girone. Quando mancano ormai solo 270 minuti alla fine del torneo, il club bianca-azzurro vanta 5 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, che è la San Cataldese. Dopo la pausa pasquale, Pandolfo e compagni riprenderanno, come dicevamo, con un match casalingo. Il Gela, infatti, che reduce dal rotondo 0-5 nella gara contro la Prova Vara, giocatosi sul neutro di Licata, riceverà il Vincenzo Presti la visita del Castelbuono, compagine che sta lottando per conquistare l'ultimo posto utile per disputare i play-off. Lotta che oramai è racchiusa ad una corsa a due, proprio il Castelbuono e l'Alba-Alcamo. Con la San Cataldese, che domenica attesa ad un impegno segevole, dovendo i Verdi a Mananto rendere visita all'ormai retrocessa Libertas 2010, al Gela toccherà averla meglio sui Madoniti per mantenere intatti i cinque punti di margine in vista della rasce finale di stagione regolare. Dopo l'impegno col Castelbuono, i gelesi saranno attesi a Paceco dal Dattino Luar e chiuderanno in casa contro il Cus Palermo. Due gare dinanzi al pubblico amico ed una in trasferta. Se domenica prossima il Gela dovesse vincere la San Cataldese, non dovesse fare altrettanto, i biancazzurri brinderebbero al salto di categoria. Si tratta però di un'opzione remota in merito all'impegno agevole che attende la San Cataldese. Quasi sicuramente il campionato per quanto riguarda la promozione diretta si deciderà tra 15 giorni. Intanto, per le due partite che si giocheranno sul terreno di gioco amico, il club preseduto da Angelo Tuccio ha deciso di ripetere l'iniziativa con le scuole già promossa in occasione della gara con l'atletico Campofranco. Tutti gli studenti delle scuole medie e superiori potranno acquistare i biglietti in curva al prezzo di un euro. Il termine ultimo per la consegna dei tesserini venatori è il primo aprile prossimo. La consegna può avvenire anche tramite le associazioni venatori. La mancata presentazione prevede una sanzione di 155 euro. Lo comunica l'associazione Combat Club Gela. Recita il pianistico del gelese Alberto Ferro al fine di sostenere il progetto Music Lab per la scuola. Appuntamento previsto per domenica 17 aprile prossimo alle 19.30 al Teatro Comunale Eschilo su iniziativa dell'associazione Perfetta Letizia presieduta da Giuseppe Failla. Il costo del biglietto è di 10 euro. Il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892. Infine c'è l'informazione cinematografica e la macchinazione che ha ucciso Pasolini il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17.30 a 19.30 e 21.30. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie a tutti